Cari amici, sono lieta di presentarvi Marco Di Vittorio, nato e cresciuto a Milano, laureato in sociologia, ideatore e promotore del progetto Io amo Milano. Ciao Marco, grazie. Ciao Ilaria, come stai? Bene, tu? Bene, bene, bene. A parte in quarantena, tutti i giorni in casa, effettivamente rimane difficile, anche a livello psicologico stare tutto il giorno, però comunque va tutto bene. Sì, anche poi una giornata come questa, che è memorabile, del 25 aprile, insomma. Infatti, poi è anche una bellissima giornata di sole, stamattina sono uscito un attimo a fare gli acquisti al supermercato ed è una bellissima giornata, rimanere a casa è un peccato, però ci tocca farlo fino al 4 di maggio e poi speriamo che si possa riprendere una vita alquanto normale. Esatto, dai, speriamo, siamo fiduciosi e ottimisti. Da persona attiva sul territorio di Milano, so che tutti i giorni vai a lavoro in bicicletta e fai delle vere e proprie dirette. Credo che nessuno meglio di te possa conoscere le condizioni ambientali di Milano, quindi ti chiedo che differenza hai notato relativamente all'ambiente, in particolare all'inquinamento in questo periodo di piena epidemia del Covid-19. Allora, praticamente io in questi due mesi sono sempre andato a lavorare, a parte gli ultimi dieci giorni che mi hanno costretto di fare lo smart working, quindi fondamentalmente non mi muovo più da casa se non una volta. Comunque nel primo mese e mezzo io sono andato sempre al lavoro in bicicletta, quindi 30-35 minuti in bicicletta e 35 minuti per ritornare e ho fatto sempre dei video, delle live, facendo vedere com'era la situazione, quindi facendo vedere la persona, il traffico, l'inquinamento e quant'altro. La mia sensazione sull'inquinamento, a parte voglio dire che Milano deserta è anche un po' particolare vederla, comunque è anche affascinante per quello. Ho notato che ovviamente il cielo è un po' più chiaro, meno smog, anche perché in questi due mesi, a causa ovviamente del Covid, c'è meno traffico e anche meno inquinamento dovuto anche al blocco di tutta una serie di attività produttive. Comunque effettivamente ho notato un miglioramento anche dell'aria, andando in bici, questo lo noti anche abbastanza velocemente. Poi ascoltando, vedendo anche delle fotografie aeree satellitare, ho notato proprio, soprattutto nel nord Italia, come dall'inizio di marzo l'inquinamento, praticamente la zona rossa che contraddistingueva l'inquinamento nel nord Italia si sia notevolmente diminuito. Questa è una bella cosa, diciamo che è l'aspetto positivo di tutta questa ricerca. È un aspetto positivo del Covid-19, è brutto dirlo, però effettivamente è un aspetto positivo. E invece capita di vedere persone in giro, magari nei parchi, correndo, camminando, perché insomma a Milano, se ricordiamo prima del Covid-19, con gli aperitivi, navigli, sempre pieni di gente, la gente che fa shopping, quindi è un po' veramente molto particolare non vedere più questa situazione. Infatti io poi sono una persona che fondamentalmente va in giro abbastanza spesso. Allora all'inizio della crisi, diciamo del Covid, la gente non aveva percepito il pericolo e anche quando la Lombardia comunque era stata bloccata, effettivamente di gente in giro ce n'era, e anche molta. Non c'era la percezione più che altro. Poi a un certo punto la comunicazione della regione, comunque dello Stato, è stata più incisiva e la gente si è ridotta drasticamente. Prima le mascherine non venivano utilizzate, adesso in questi giorni ho notato che quasi tutti hanno le mascherine, anzi a parte uno o due persone che non avevano la mascherina, ma praticamente quasi tutti, e poi tutti tenevano le distanze sociali. Quindi posso dire che il milanese medio ha, diciamo, un senso civico molto alto. Vedere Milano vuota è particolare, nel senso che è un po' spettrale, ha una sensazione, mi ha dato a volte una sensazione anche di angoscia, però dall'altra parte sicuramente è stata anche appassinante, perché l'ho vissuta andando al lavoro in bicicletta, come se fosse totalmente mia. Essendo priva di traffico in bicicletta, mi sentivo in totale sicurezza, anche perché utilizzando la bicicletta sempre, diciamo, nelle giornate normali, ti senti un po' in pericolo, perché comunque c'è molto traffico. Quindi da una parte è angosciante, perché vedi Milano vuota, ma dall'altra parte affascinante, perché è totalmente tua. È un po' come essere nella settimana centrale di agosto a Milano, quindi vuota e te la senti tua, e ci puoi fare quello che vuoi, teoricamente ovviamente. Infatti. Ma andiamo adesso al tema della salute, che è il tema che per noi di United è molto caro. Volevo dirti, se le persone di Milano si stanno preoccupando un po' per la propria salute. Allora, la mia percezione, sentendo i colleghi di lavoro, comunque sentendo i miei amici, effettivamente la gente è preoccupata, sia per quanto riguarda la sanità, quindi il problema di contrarre questa malattia, o che la possano contrarre i propri cari, ma anche per il futuro, nel senso dell'economia, perché va di pari in passo, sia dal punto di vista sanitario, che anche economico. La gente è preoccupata, perché ci potrebbero essere molti disoccupati, comunque vediamo in giro che i bar, i ristoranti sono chiusi, gli alberghi sono chiusi, e se dovesse durare poco l'emergenza, ovviamente si può recuperare abbastanza velocemente, ma se non si trova un antitodo, e quindi l'emergenza può durare due o tre anni, ovviamente la gente è preoccupata, perché ovviamente ci potrebbero essere tantissimi disoccupati, anche se se dura tanto, secondo me l'economia si potrebbe convertire in aspetti sanitari, anche perché, voglio dire, probabilmente invece di andare al ristorante, la gente preferirà comunque prendere il cibo e farselo portare a casa, quindi l'economia cambia, però ci vuole un tempo di transizione tra la vecchia e la nuova economia, però comunque la gente è più o meno preoccupata, sia per l'aspetto sanitario che quello economico. Certo, perché comunque le soluzioni dovrebbero essere anche abbastanza veloci, ecco, da trovare, visto che comunque non si trova in difficoltà. Perché effettivamente, se no ci saranno milioni di persone, se non si trovano delle soluzioni abbastanza immediate, che rischiano veramente il posto di lavoro, pensiamo a tutti i libri professionisti, comunque tutti i piccoli imprenditori, che ovviamente in questo frangente si trovano a zero fatturato. Dal 4 di maggio magari possono migliorare le cose, però io non penso che le persone da 4 di maggio comincino a viaggiare o comprarsi la macchina o andare al ristorante o altro. Comunque la gente avrà paura di muoversi, sì, si muoverà di più rispetto a oggi, però sempre meno. E sicuramente andare a comprare il paio di scarpe in più sarà il, non il secondo problema, il secondo pensiero, ma sarà il decimo, il quindicesimo. È un impatto sociale notevole questo, no? È un impatto sociale notevole, infatti secondo me se dovesse durare tanto il problema del Covid potrebbe modificare l'aspetto sociale della popolazione mondiale. Quindi devo dire, anche da un punto di vista sociale, di socialità, si cambierà moltissimo. Per esempio, io adesso lavoro in smart working, se prima ero abituato ad andare comunque in ufficio, avere una socialità con i colleghi, tutta una serie di cose, adesso non ce l'ho, adesso sono a casa, sì, è vero che sento i colleghi via telefono, ma non è la stessa cosa. Quindi bisogna rimodulare tutta la società, totalmente. Poi io sono lavorato in sociologia, quindi... È un impatto che meglio di te può cercare di trovare delle spiegazioni a riguardo. Infatti. Bene, Marco, grazie di essere stato qui con noi e chi lo sa, magari un giorno sarà il nostro inviato speciale attraverso il tuo progetto Iamo Milano. No, 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 io anzi vorrei, ci terrei, perché comunque è una bella associazione, è una bella iniziativa quella che è realizzata dell'United People of the World e sinceramente spero che in futuro di poter collaborare con la vostra associazione. Ti ringrazio, anche perché l'unione fa la forza e quindi uniamo tutti le nostre forze per migliorare il pianeta. Ma infatti io poi seguendo il progetto Iamo Milano voglio scrivere di eccellenze per i proprietari di Milano quindi potrei essere anche un punto di riferimento per tutta l'area metropolitana. Bene, sono molto contenta. Va bene. Va bene. Grazie ancora Marco. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao a tutti. Ringraziamo nuovamente Marco di Vittorio per essere stato qui con noi e ringrazio anche tutti voi e vi ricordo di iscrivervi al canale e di sostenere il progetto iscrivendovi anche al sito www.unitedpeopleoftheworld.it Grazie a tutti.